Ciao da Lucia, oggi come richiesto da voi vorrei farvi vedere come si fanno e si attaccano le nappine. Allora, io generalmente la nappina la costruisco direttamente attaccata al mio progetto e quindi vi farò vedere innanzitutto come la costruisco attaccata al progetto ma se voi volete effettivamente mettere una perlina alla base della vostra nappina o quant'altro effettivamente bisogna attaccarla successivamente. Per ora vi faccio vedere come si attacca si costruisce attaccata direttamente al nostro progetto. Allora, in questo caso io ho preso un ago e ho infilato un pezzo di filo di circa, questi saranno due metri di filo, poi dipende da quanto volete cicciottosa o corposa la vostra nappina. Questa è la punta del nostro scialle, andiamo subito a vedere come si costruisce. Allora io userò come ausilio diciamo una semplicissima scheda che può essere quella del supermercato piuttosto che insomma per avere la dimensione e prenderò la scheda in mano e in questo modo metterò vicino il nostro la punta del nostro scialle e farò in questo modo. Passerò l'ago all'interno della punta del nostro scialle, faccio scorrere tutto il filo, lo fermo sotto all'altezza della nostra tessera e quindi adesso posso mollare la punta perché tanto mi regolo con la tessera e andrò avanti quindi a passare vedete in questo modo passo avanti passo dietro col filo di nuovo sul retro della nostra del nostro scialle faccio entrare di nuovo nella punta il nostro filato di nuovo in questo modo davanti di nuovo sul retro ecco qua facciamo in questo modo non tiratelo troppo sennò lo scialle rimane con la punta schiacciatina in questo modo andiamo avanti così ecco qua fino a quando non è finito il filato lo facciamo insieme senza stoppare perché tanto ormai il filato è finito ecco qua senza interruzioni teniamolo morbido così molto semplice comunque da fare come come cosa niente di particolarmente complicato dovete proprio entrare uscire dalla punta del vostro scialle in questo modo sono arrivata adesso una volta arrivata semplicemente andrò avanti fino a sfilare l'ago quindi così vedete sfilo lago perché tanto sono arrivata alla fine e la tengo qua in sospeso un attimo la mia napina appoggio lago prendo un altro pezzo dello stesso colore di filo il taglia fili tagliamo un pezzettino e lo appoggiamo qui sotto così tengo fermo il filo così non lo faccio scappare via e sfilo la nostra tessera adesso prima faccio un nodino ad un'altezza all'altezza che desidero avere perché possiamo avere la come si dice la chiusura della napina più cicciotta o meno cicciotta facciamo in questo modo ora una volta fatto un nodino per fermarlo prendo tutte e due i nostri fili e gli faccio fare un po di giri perché sapete che le nappine hanno questo questa parte coi fili belli cicciosi così ok riprendo il nostro ago tagliamo alla stessa lunghezza il filato così non abbiamo problemi ad infilarlo infiliamo tutte e due i nostri fili così e andiamo a passare il filo semplicemente all'interno della napina in questo modo in modo da nasconderlo tanto noi il nodo l'abbiamo già fatto e questi giri sono solo estetici fatto questo passaggio prendiamo il nostro taglia fili andiamo a tagliare all'interno ecco così la nostra napina e poi tagliamo ovviamente più corti due fili che abbiamo scusate usato per unire e vedete abbiamo la napina costruita direttamente sul nostro scialle comodissima questa non la staccherà più nessuno diciamo che io prediligo sempre questo metodo per attaccare le napine perché sono più salde sono agganciate bene vedete hanno proprio sono agganciate benissimo e anche se si tira la napina non si stacca mentre se l'applichiamo cucendola il procedimento è lo stesso quindi la creiamo sulla nostra scheda ma adesso ve la faccio vedere e poi in seguito passando il filo all'interno andiamo a cucirla al nostro scialle ma non è un problema perché adesso vi faccio vedere esattamente come si fa anche quella fatta ed applicata in seguito allora sempre con l'ausilio della nostra tessera e prendo il filato ma questa volta non è necessario tagliarlo lo lasciamo attaccato al gomitolo ora ve la faccio vedere in questo senso così vi faccio vedere la napina un po più grossa quindi non facciamo altro che fermare il filo e iniziare ad avvolgere diciamo che in questo modo non dovendo cucire facciamo più in fretta quindi avvolgiamo 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 la nostra il nostro filato attorno alla testa dopodiché tagliamo quando pensiamo di essere arrivati ecco qui ecco qui come prima prendiamo il filato filato sfiliamo dalla tessera la nostra matassina la appoggiamo sul filato questo modo facciamo il nostro nodino sempre decidendo quanto vogliamo lunga la testa della della nostra mappina perché potremmo volerla più lunga più corta decidete voi poi la lunghezza non è non è standard potete deciderla voi e facciamo semplicemente stringiamo bene facciamo il nodino come prima facciamo in questo modo prendiamo un ago io adesso ne ho preso uno con la corona più grossa così faccio anche più in fretta perché se no perdo più tempo a infilarlo che a farvi vedere come si fa stessa cosa infiliamo tutte e due i capi all'interno del lago così in questo modo giriamo un po di volte per fare proprio l'effetto di attorcigliare prendiamo andiamo a nascondere all'interno il nostro filato passando l'ago questo è con la punta più grossa fa più fatica però vedete all'interno andiamo a nascondere il nostro filato una volta nascosto il nostro filato facciamo come per l'altra mappina andiamo a tagliare tutti i nostri tutto il nostro filato in questo modo così tagliamo i due fili più corti perché magari ce n'è qualcuno un po più più lungo un po più corto ed ora non facciamo altro che cucirlo al nostro scialle in questo modo allora prenderò vabbè l'ago più sottile forse meglio prendo il filato lo infilo in questo modo e non faccio altro che fare ciò prendo passo all'interno vedete tutti i nostri filetti in questo modo così vado a cucire la nostra napina questo lo tengo da questo lato fermo in modo che potrò fare il nodo alla fine esco rientro passo attraverso rientro passo attraverso e poi alla fine andrò a io faccio un nodino col filato che ho di qua vedete taglio il taglio questo vediamo se ci riesco in questo modo così e vado a fare un nodino con il filato che ho ancora libero tenete bene la punta tanto poi rimane qua e non si vede quasi nulla in questo modo e poi andrò a nascondere il filo con l'ago vedete in questo caso noi abbiamo intanto ve lo faccio vedere tagliandolo così faccio vedere come viene però andrebbe nascosto e non tagliate ma il nodino perché come tiratevi si stacca la napina vedete in questo caso io l'ho applicata in seguito questo metodo è comodo quando vogliamo mettere appunto una perlina qualcosa alla base della testa della napina quindi vogliamo mettere tra lo scialle e la napina una bella perlina e allora in questo caso va applicato se no come vedete si può tranquillamente fare questa già agganciata questa l'ho fatta più lunga questa più piccolina e più bella questa lunga e quindi consiglio di farla un po più lunghetta comunque abbiamo qua i due diversi tipi di napina e come si attaccano allo scialle spero che vi sia stato utile questo tutorial io vi saluto vi do appuntamento se vorrete nel mio gruppo facebook creando con luce franci e vi do appuntamento anche al prossimo tutorial ciao ciao da luci